Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento L'ultimo della settimana con la rassegna stampa di Mattino 6 Iniziamo subito la lettura dei giornali partendo dalle prime pagine regionali Andiamo sul quotidiano Il Centro Questa è la prima dell'edizione di Pescara Per seguita la ex con 13.000 sms Arrestato un uomo accecato dalla gelosia minacciava di diffondere i loro video hard E poi appalti pilotati indagati Sorge e Micucci per i bandi dei fondi europei Siamo nel taglio alto e ancora Delitto di Pietrantonio uccise e bruciò l'ex fidanzata Paduano condannato all'ergastolo A centro pagina schiaffa la memoria lo Stato Rivuole i soldi dei morti del terremoto L'Aquila 2009 la presidenza del Consiglio cita in giudizio i familiari All'interno i richiami dal nazionale Senato legittima difesa bufera sulla nuova legge E poi migranti Juncker l'Italia ha salvato l'onore dell'Unione Europea Nelle cronache di spalla Pescara stazione come il Far West scatta l'allarme E poi con le Corvino negoziante esce di casa e scompare Nel taglio basso le ultime analisi dell'Arta Mare cancellato un divieto Migliora Fosso Vallelunga Inquinamento solo in via Balilla E ancora troviamo il calcio di Serie A Giustizia è fatta Tolta la squalifica per un turno a Sallei Montari Dopo i fatti di Cagliari Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro Cambiamo edizione Questa è la prima di Chieti Lanciano Vasto Silvia è paride ignari del pericolo Coniugi di scerni morti nel fiume L'avvocato di famiglia accusa I rischi non erano segnalati E poi andiamo a vedere nelle cronache Chieti nessun ricatto assolto il giudice Papa E poi Ortona sindaco ideale partenza sprint per Castiglione Nel taglio basso Chieti palpeggia la collega Lui nega l'universitario piange dal GIP Mai aggredita era un litigio Da Lanciano violento con i genitori Figlio via da casa Andiamo ancora avanti Andiamo a vedere adesso la prima dell'edizione di Teramo Pitbull La zanna bimba e nonno Paura Pineto Il cane stacca un dito all'uomo intervenuto Per salvare la piccola E ancora nelle cronache di spalla Richiesta dei familiari Uccise il fratello a caccia Riaperto il caso E ancora crisi in comune a Teramo Brucchi sono stanco Basta con i tatticismi Nel taglio basso Un anno dalla morte Teramo omaggio a Pannella Il 19 il Teatro Romano Ospiterà una commemorazione Dedicata al leader dei radicali E poi playoff di basket Roseto batte Legnano in casa E va sul 2-1 L'ultima delle quattro prime pagine del centro Quella di L'Aquila Avezzano sul Mona Mamma in coma dopo il parto Il titolo con il quale viene aperto il giornale Avezzano Malore in ospedale per una 32enne Che si era sottoposta a un cesareo E poi nelle cronache L'Aquila telecamera in centro storico Contro i vandali A Scanno Tartarughe nel lago Scatta l'allarme Nel taglio basso Microsoft nelle scuole aquilane Questa l'iniziativa Un progetto pilota Con il coinvolgimento di 8 milioni di studenti Ad Avezzano Di Pangrazio Diceno al confronto In piazza Andiamo avanti sempre con i quotidiani regionali Cambiamo testata Passiamo al messaggero Abruzzo Restituite i risarcimento del sisma Commissione Grandi Rischi assolta In appello Adesso il governo chiede indietro le provvisionali La vocatura dello Stato fa causa I familiari delle vittime Che tengono duro E si va in tribunale Questa è la notizia di apertura Che abbiamo visto anche nella fotonotizia del centro E poi nel cratere Niente tasse universitari E bus Meno cari Andiamo avanti A centropagina Progetti europei Per la procura C'era una cupola Associazione delinquere per quattro Tra gli avvisati Antonio Sorgi Ed Ercole Cauti E poi Ancora a centropagina Nella fotonotizia Spalletti Architetto dal tocco artistico L'adannunzio Ha conferito La laurea onoris causa Al maestro degli spazi Di spalla La protezione civile Scopre Gli angeli degli abissi A pescare Un team di sub volontari Per ogni calamità In acqua Nel taglio basso Teramo Sara I parenti Dicono E' stata fatta giustizia Queste le reazioni Dopo l'ergastolo A Vincenzo Paduano L'uomo che il 29 maggio Dello scorso anno A Roma Strangolò E diede alle fiamme La sua ex fidanzata Sara Di Pietrantonio Originaria Di Arsita Nel taglio alto A Pescara Ricatto Arda La fidanzata Con 13.000 messaggini A Casalbordino Michel Platini Conquistato Dalle predibatezze Abruzzesi E in Serie A Montari Squalifica annullata Dalla corte sportiva Federale Il ganese Del Pescara Era rimasto Vittima Di corri razzisti A Cagliari E' punito Per l'uscita Anticipata Dal campo A suo favore Si era espresso L'ONU Andiamo adesso Sulla città Il quotidiano Della provincia Di Teramo Fondi pilotati A Mosciano Quattro Gli indagati Chiusa l'inchiesta Sulla fira Nei guai L'ex presidente Micucci Due dirigenti regionali E un imprenditore A centropagina La fotonotizia Giustizia per Sara Roma Ergastolo Al fidanzato killer Della 22enne Di Arsita E sotto La fotografia Scomparsi 17 bambini In due anni Abruzzo Numeri allarmanti Secondo gli avvocati Di Aiga Andiamo nel taglio alto Per vedere La crisi in comune A Teramo Quadra sempre più vicina Secondo la città Brucchi quasi pronto A ritirare Le dimissioni Di spalla A Teramo Ecco il project Da 10 milioni Per la stazione In provincia Nunes per ora Resta alla vicepresidenza Roseto degli Abruzzi L'idola Lucciola Il sindaco Salva la stagione E poi A Giulianova Il Cursal C'è il partito Di Mastromauro E nel taglio basso Lo sport Con il basket Gli Sharks Volano sotto La curva nord Con Legnano Vittoria E ora Il match point Questo per quanto riguarda Le prime pagine regionali Adesso Andiamo ad aprire Lo spazio Invece dedicato Ai titoli Nazionali Partendo dal Corriere Della sera Rubate Le mail Di Macron L'apertura È dedicata Alle presidenziali Francesi Le polemiche Alla vigilia Del voto E le minacce Dell'Isis Le pen contestata Costretta alla fuga Lo staff Del candidato Denuncia Vogliono falsare Il voto Come negli Stati Uniti E poi Incendio a sud Di Roma Le fiamme In un deposito Di plastica Finestre chiuse Rischio amianto Per la nube nera Che sta preoccupando Un po' Tutta la regione Lazio Nel taglio alto Invece sale La tensione Tra Renzi E il governo Siamo alla politica interna L'ex premier Non reggiamo Un anno Così Dopo le primarie Nell'editoriale Di Ernesto Galli Della loggia Un'identità Politica Da ricostruire Per il partito Democratico Secondo Della loggia Andiamo Andiamo avanti Andiamo a vedere Adesso la prima Pagina della Repubblica Cannabis libera Gestita dallo Stato Fronte dei giudici Per fermare I clani Il procuratore Antimafia Roberti Affidare I monopoli Coltivazione E vendita Quella della legalizzazione Delle droghe leggere È una battaglia Che è stata condotta Negli anni Soprattutto dal partito Radicale Ma non solo È comunque un tema Di cui si dibatte Da moltissimo tempo E poi la polemica Sulla legge Per la legittima difesa Orlando A Renzi È sbagliato Armare i cittadini Così Il ministro Della giustizia Che è stato anche Avversario di Renzi Nelle primarie Per la segreteria nazionale Andiamo ancora avanti Sulla stampa Migranti Cambiano le regole Le ONG Messe sotto controllo L'apertura del quotidiano torinese È dedicata al tema Dei migranti Ricorderete Nei giorni scorsi Le tante polemiche Per la denuncia Del magistrato Zuccaro Su possibili connivenze Tra le ONG Che si occupano Del recupero dei migranti Anche del recupero dei migranti E del loro soccorso E gli scafisti Che portano Le persone Insomma Che hanno Che vogliono raggiungere L'Italia Via mare In maniera Clandestina Ovviamente A largo della Sicilia La nave di Medici senza frontiere Recupera Per la prima volta Solo morti La proposta del Parlamento Al governo La regia Alla guardia Costiera Questo per quanto riguarda L'argomento ONG E migranti E poi a centropagina Le fake news Che ci avvelenano La tavola Il decalogo Di Coldiretti Per orientarsi Nelle bugie Sul cibo I consigli Del dietologo Giorgio Calabrese Questo per quanto riguarda La buona E corretta alimentazione Andiamo avanti Sul fatto quotidiano I giustizieri I giustizieri della notte Il legittima difesa Renzi Rinnega il PD E vuole peggiorarla Con B Ovviamente Si intende Berlusconi Critica Da sinistra Ma vuole rifarla Con Forza Italia Questo per quanto riguarda La legge Sulla legittima difesa L'ex premier Sconfessa Il testo Del fidato Ermini Parti poco logiche Secondo L'ex primo Ministro Italiano Nel taglio alto La Francia Fischia Marine Le Pen Che quasi si arrende L'Isis Attaccate i seggi E uccidete I candidati Questo l'allarme Alla vigilia del voto In Francia E poi la Basilicata L'eni 400 tonnellate Di petrolio Nei campi La confessione Con il Ministro Dell'Ambiente Si torna a parlare Anche di ONG Sospette Un bollino Degli stati Per quelle oneste La svolta Una certificazione Per operare Dopo le polemiche Di questi giorni Andiamo adesso Sul messaggero Legittima difesa Legge in bilico Il titolo di apertura Dopo le polemiche Tolto il riferimento Alla notte Ma in Senato Mancano voti Forza Italia È decisiva Molti no Al provvedimento Divisioni anche Nel Partito Democratico Offensiva Di Renzi Nel Mirino Le telefonate Selvagge E poi A centropagina Rogo a Pomezia Paura a Roma Rischio di amianto Nella nube 12 famiglie evacuate Finestre chiuse In 21 comuni Dell'area Il direttore Dell'ISPRA Dice Servono 48 ore Per valutare I danni a salute E coltivazioni Altra notizia Il tifo Oltre i limiti Fantocci giallorossi Impiccati al Colosseo Provocazione shock Degli ultralaziali La condanna è unanime Indagano I PM E poi C'è il commento Di Paolo Graldi Lo sport non c'entra La fede calcistica È pretesto Di violenze Molto spesso Purtroppo È davvero così Nel taglio basso All'Italia La prova esuberi E nuovo contratto Doppia incognita Per i commissari In attesa di un acquirente Dopo il no Lo ricorderete Al referendum Sull'accordo Raggiunto Con la vecchia proprietà Della All'Italia I lavoratori Hanno detto Di no E dunque Si è arrivati Al commissariamento Notizia che riguarda Anche la nostra regione Nel taglio basso Della prima del messaggero La madre della vittima Sentenza giusta La strangola E poi le diede fuoco L'ex di Sara Condannato All'ergastolo Andiamo sul quotidiano Il tempo Legittima difesa PM senza colpe Questo è il titolo Di apertura Parla il presidente Dell'Associazione Nazionale Magistrati Albamonte Non si sentiva Il bisogno di una legge Così aumenta La discrezionalità Del giudice Dunque anche Il discredito Per il suo operato E poi A centropagina La fotonotizia Fumata nera Brucia un deposito A Pomezia Panico amianto I cittadini chiusi in casa In 21 comuni Ai Castelli Andiamo sul giornale Paese allo sfascio Cambiamo Tenore Della prima pagina Sul giornale Così purtroppo È ridotta l'Italia Tra degrado E inciviltà Abbiamo toccato Il fondo Andiamo Sulla verità Sempre per rimanere Nel campo Dei quotidiani Di centrodestra I pistoleri Del PD Sono dei pistola Renzi Spara i ladri E si ferisce La legge Sulla legittima difesa Che doveva portargli Voti Si è trasformata In un boomerang Coperto di ridicolo L'ex premier Corre ripari In quel senato Che voleva abolire Con il referendum Ma rischia Un altro buco Nell'acqua Dunque molto critica La posizione di Maurizio Belpietro Sul giornale Che dirige E poi Elezioni con sorpresa Centropagina Berlusconi L'Eterno Potrà candidarsi Ritroviamo Che il tema Dei migranti Il dossier Delli 007 Sulla tratta Dei migranti Ricostruita La rete Che porta Prostitute Spacciatori Dalla Nigeria In Italia E li sfrutta Cambiamo Schieramento Politico Andiamo Sull'unità Quotidiano Che fa riferimento Al Partito Democratico Pone in primo piano Il problema Del rogo A Pomezia Nubi Nere 50 pagine Ogni mese Su Facebook Che inneggiano Al fascismo E si fa Questo parallelismo Diciamo Tra quanto Accaduto Nella regione Lazio Di cronaca E poi I temi Della Politica E richiamo Appunto Alle problematiche Che riguardano L'apologia Del fascismo Nel taglio Basso Legittima difesa Legittimi Dubbi Caduto L'equivoco Sulla distinzione Notte Giorno Così Il commento Sulla legge Andiamo Sul manifesto Spaghetti Western Tutti contro La legittima difesa Targata PD Di appi L'associazione Nazionale Magistrati Invita A cestinare La legge Grasso Meno male Che c'è Il senato Così Il suo Presidente Poi Mdp Boccia La legittima difesa Renzi Non bastano Gli spari Notturni Ma Forza Italia E Lega Alzano Il tiro E poi L'ultimo saluto In Campidoglio A Valentino Parlato Andiamo Sul mattino Di Napoli Lister Attesa Inchiesta Al Pascale Scusate Blitz Dei NAS L'accusa E concussione Acquisiti I registri Per interventi Dopo la denuncia Dei pazienti Nel mirino Le operazioni Di tumore Al seno I rapporti Con le cliniche Private Questa L'apertura Del quotidiano Napoletano E poi Legittima difesa Legge Già a rischio Scontro Nel PD Valida Non solo Di notte Al senato Però Non c'è La maggioranza Andiamo A centropagina Le idee Da totti Insigne Non si può Negare Il sogno Della maglia Numero 10 E poi Roma L'indecenza Di chi scherza Su quei tre Manichini Impiccati Di fronte Al Colosseo Con le maglie Dei giocatori Della Roma Andiamo Sul secolo XIX Il quotidiano Genovese Voto in Francia Macron sale L'Isis Minaccia Ancora Lanci di uova Contro la Le Pen Deficit L'Unione Europea Boccia i paesi Del sud E poi Le ONG Sotto il controllo Della guardia costiera Pronta la proposta Elaborata dal Parlamento Sbarca la nave Di medici Senza frontiere Con a bordo Solo cadaveri Andiamo su Avvenire Che sposta L'attenzione Su un altro tema Scacco ai caporali Un blitz in Calabria Dopo la denuncia Di un profugo Sfruttato nei campi Il Viminale Annuncia Ispezioni In tutti i centri D'accoglienza Noi schiavi Primi fermi Con la nuova legge La Caritas Dice Basta processi Sommari Alle ONG Poi Ritroviamo Il tema Delle elezioni In Francia Macron Vede il traguardo Grande favorito Alla vigilia Di questo voto Importante anche per i riflessi Nell'Unione Europea Il gazzettino Il quotidiano Del nord-est Legittima difesa È tutto da rifare Licenza di sparare Crescono le polemiche Dopo il no di Renzi Il PD Corregge Sparirà La parola Notte Bufera sul testo Anche il PD È diviso Ma per le modifiche In Senato Servono i voti Di Forza Italia La legge È in bilico Andiamo sulla gazzetta Del mezzogiorno Quindi dal nord Ci spostiamo Al sud E in particolare In Puglia Spari Sulla legittima difesa Puglia Dubbi dei commercianti Allarme dei giudici Ironia degli avvocati Dall'Europa Elogio All'Italia Sull'accoglienza Ha salvato l'onore Di tutti noi E poi Brindisi Taranto La xylella Dilaga 230 nuovi focolai Per questa Malattia Delle piante D'olivo Andiamo ancora avanti Il dubbio Il capo dell'ANM Contro la legge Ammazzaladri Intervista Di Eugenio Albamonte Scrivere così le norme È pericoloso Secondo Il presidente Dell'Associazione Nazionale Dei magistrati Al centro pagino Il libro Unica certezza La morte della ragazza Quel pasticciaccio brutto Di Marta Russo Ricorderete La studentessa Uccisa Alla sapienza Andiamo adesso Sui quotidiani Economici E finanziari Apriamo il sole 24 ore Materie prime In caduta Torna La tensione sul greggio Il titolo Di primo piano Del giornale Per il rame Gli altri metalli La peggior settimana Negli ultimi sei mesi Pesa L'economia cinese Ieri Petroli In recupero C'è speculazione Dei fondi Nel taglio basso Telecom Il pressing Dell'Unione Europea Vivandi Chiarisca Sul controllo Il CDA conferma Recchi Presidente Questo per quanto Riguarda La telecom Andiamo ancora avanti Su Italia Oggi Professioni Insieme in piazza Architetti Medici Commercialisti Avvocati Veterinari Sono già Più di 80 Le adesioni Alla manifestazione Del 13 maggio A Roma Per il giusto Compenso Questo è il titolo Di apertura D'Italia Oggi Andiamo a vedere Anche Milano Finanza Hightech Incredibile Apple In cassa A più riserve Di Canada Il Regno Unito Messi insieme Un anno fa La davano per bollita In borsa Ha fatto più 50% Cosa farà ancora Per stupire E arricchire Ve lo spiega lui E cioè Tim Cook Che è il capo Della Apple Intervista Al numero 1 Della società E più grande Al mondo 770 miliardi Di dollari Di patrimonio Lasciamo i quotidiani Economici Andiamo a dare uno sguardo Ai principali quotidiani Francesi Visto che siamo Alla vigilia Del voto In Francia Per le presidenziali Anche decisif Pour la France Il titolo Di apertura Delle Figaro Che sta per Una partita decisiva Una scommessa decisiva Per la Francia Potremmo tradurre così Il titolo Delle Figaro Faccia a faccia Marine Le Pen Emanuele Macron Per Diciamo Queste Presidenziali A cui guardano Guardano con molto interesse Anche gli altri paesi Dell'Unione Europea Apriamo anche Le Monde La fine della campagna Conforta E quindi Amplifica Il vantaggio Di Emmanuel Macron Da tutti i sondaggisti Francesi Posto come il favorito Con largo vantaggio Sulla candidata Del Front National Marine Le Pen Ok Abbiamo Dato uno sguardo Anche Ai quotidiani Francesi Adesso invece Apriamo I principali Quotidiani Sportivi Italiani Andiamo Sulla gazzetta Dello Sport Il bello Derby d'oro Di Bala Belotti E poi Il brutto La folle Notte di Roma Tra striscioni Scusate Impiccati Il tifo Ormai È impazzito E dunque C'è questo Parallelismo Tra il derby Fra Juventus E Torino E quanto purtroppo Accaduto Nella capitale Fratelli a Palermo Rivali stasera In Juve Toro Allegri cerca L'occasione Scudetto Con fuori Buffon E forse Iguain Miailovic dice Non esistono squadre Imbattibili E poi Le sorprese Del Giro d'Italia Numero 100 La prima rosa Il carpentiere Postberger Sardegna In love Andiamo Scusate Sul Corriere Dello Sport Poi vedremo Tutto Sport Prendiamoci Lo scudetto Ore 20.45 Toro Allo Stadium Una vittoria Può portare Al sesto titolo Di fila E all'ingresso Nella leggenda Derby Allegri Vede il traguardo Turnover Massiccio Max fa riposare Buffon Anche Iguaini Verso la panchina Miailovic dice Li facciamo Sudare Nel taglio alto Un'antizia che riguarda Il Pescara Giustizia è fatta Scrive il Corriere Dello Sport È stato accolto Il ricorso Tolta la squalifica Montari Con il Crotone Potrà giocare Di spalla C'è il Cagliare Le 18 Per il Napoli S'arriva all'assalto Napoli Secondo Possiamo farcela Sarebbe un colpo Amsic È in dubbio Nel taglio basso Serebbe in campo Che brividi Per il Bari Occasione Frosinone Ieri in anticipo Al Curi Perugia Spezia È finita 0-0 E poi la MotoGP Oggi la Polla Pedrosa Il più veloce Vale Dietro Il ciclismo Con la sorpresa Il giro Va al primo Leader Post Belger Andiamo adesso Su Tutto Sport Stasera Il derby Bianconeri Per lo Scudetto Granata Per l'orgoglio Testa Juve Cuore Toro La vittoria Può valere Il sesto titolo Di fila Per la Juventus Se domani Il Milan Fermerà la Roma Allegri Fa turn over Pensando al Monaco Almeno sei cambi Rispetto a mercoledì In Porta Ci sarà Neto Offerta Super Del City Per Alex Sandro E poi Dalle emozioni Del 4 maggio Con il ricordo Della tragedia Di Superga La partita più attesa Miailovic Gli eroi di Superga In campo Con noi Belotti Non sia Ossessionato dal gol Torna a giocare Con la serenità E la generosità Che lo hanno fatto amare Dai compagni Questo è l'invito Del suo allenatore Nel taglio basso Moto Intervista esclusiva Lorenzo Io mondiale Con la Ducati Sarà speciale Questo anche Per quanto riguarda I quotidiani Sportivi Abbiamo Circa un minuto E mezzo Per andare A vedere Insieme I quotidiani Online Regionali Chiedo alla regia Se è possibile Mettere in onda Allora no Abbiamo dei Piccoli problemi Tecnici E dunque Ci fermiamo Adesso Per la pausa Pubblicitaria Poi torniamo Con la seconda parte Di Mattino 6 Non prima però Di aver visto Le previsioni Meteo Per le prossime ore A tra poco Eccoci di nuovo insieme Per la seconda parte Di Mattino 6 Torniamo Alle notizie Dalla nostra regione Andando ad aprire Le pagine interne Dei quotidiani Abruzzesi Partiamo dal centro Nella pagina Di primo piano Terremoto Beffe e rabbia Lo Stato Ai parenti Ridateci I soldi Dei morti La presidenza Del consiglio Pagò 8 milioni Di euro Di risarcimenti Ma ora Li rivuole indietro E fa causa civile Ai familiari Motivo Imputati assolti Somme trattenute Indebitamente Il processo Fissato a luglio Al tribunale dell'Aquila Le parti civili Scrivono in una lettera Non restituiamo Neanche un euro Si difenderanno così Un cavillo giuridico Può stoppare La richiesta Dove non c'è stato Un reato Non è detto Che non ci sia Un danno civile Questa la posizione Dei legali difensori Dei familiari Delle vittime La storia del processo Dalle sette condanne In primo grado Alla maxiassoluzione Dei sei scienziati Questo è il percorso Del processo Grandi rischi Nel taglio alto Della pagina successiva C'è chi ha rinunciato E chi ha già restituito E poi l'aria Lo sfogo della madre Le hanno tolto La dignità Parla Maria Grazia Piccinini La figlia 25 anni Stava per diventare ingegnere Non pensavo che osassero tanto E morta Perché lo Stato Non l'ha protetta Mi sento profondamente Presa in giro Dice Da chi ha preso Un impegno A fare cose Che non ha fatto In tre momenti Ho sospettato Che finisse Che finisse così E dunque Questa è la notizia Di primo piano Del quotidiano Il centro Adesso Andiamo a vedere Anche la pagina La pagina Bruzzo Anzi Prima Vediamo La notizia Che riguarda Il delitto Di Pietrantonio Dalle pagine Di attualità Argastolo All'assassino Dell'ex fidanzata A Roma Paduano Strangolò E diede fuoco Alla 22enne Sara Originaria di Arsita In provincia di Teramo La madre dice Sentenza giusta E morale Notizia che Andiamo a vedere Anche Dalle pagine Della Dalle pagine Della città Il quotidiano Della provincia Di Teramo Da largo spazio A questa notizia Uccise Data le fiamme Ergastolo Al fidanzato Killer Di Sara Giustizia Per la 22enne Di Arsita Uccisa Nel maggio Dello scorso Anno Nella periferia Romana Forte il legame Con l'Abruzzo La famiglia di Sara È originaria Della Valfino E la giovane Aveva studiato Al conservatorio Di L'Aquila L'omicidio L'assassino In preda Alla gelosia Ha prima strangolato La vittima E poi le ha dato fuoco Assieme alla macchina La madre Ha commentato Si tratta Di una giusta Sentenza Una boccata D'aria fresca Che però Non potrà mai Restituirmi Sara Andiamo ancora avanti Con la lettura Delle pagine Interne Dei quotidiani Regionali Adesso ci spostiamo Sulla pagina Abruzzo Del quotidiano Il centro Inchiesta Fondi europei Appalti pilotati Quattro Gli indagati Sott'accusa Il dirigente Della regione Sorgi E l'ex presidente Della Fira Micucci Favorita Una ditta La replica Di Micucci Io vittima Di un errore Così ha scritto Sulla sua pagina Facebook L'ex presidente Di Fira Oggi Sindaco Del comune Di Rapino In provincia Di Chieti Sono stato coinvolto Perché Presidente Del CD A Fira Per fatti Del 2011 Senza una sola Accusa Di vantaggio Personale Senza neanche Essere stato Avvisato E poter dire La mia Ho letto Le 40 pagine Di conclusione Delle indagini C'è un rigo Di fatti Ascrivibili a me Centinaia Di intercettazioni E non una Che riguardi Me Così scrive Micucci Intanto Andiamo A vedere Il servizio Che riguarda Proprio Questa inchiesta Condotta Dalla procura Di L'Aquila Ancora guai Per l'ex dirigente Della regione Abruzzo Antonio Sorgi Indagato Insieme ad altre tre persone Con l'accusa Di associazione Per delinquere Finalizzata Alla commissione Del delitto Di turbata Libertà Degli incanti Per fatti Commessi Tra il 2009 E il 2013 La squadra mobile Di Pescara Suddelega Della procura Della repubblica Di L'Aquila Notificato Quattro avvisi Di conclusione Delle indagini Nei confronti Di Sorgi Rocco Micucci Ex presidente Del CDA Della Fira Iris Flacco Dirigente Del servizio Risorse Del territorio Attività Estrattive Nell'ambito Del dipartimento Opere pubbliche Governo Del territorio E politiche Ambientali Della regione Abruzzo Ercole Cauti Già Amministratore Della società Metron SRL Con sede operativa Mosciano Sant'Angelo Le indagini Hanno preso il via Nel settembre Del 2014 Dopo l'arresto Di Sorgi Nell'ambito Dell'operazione Resole Condotta Sempre Dalla procura Aquilana Relativa Al bando Di gara Per l'ampliamento Del cimitero Di Francavilla Al mare Successivamente Sulla base Dell'analisi Di una cospicua Moliti documenti Acquisiti Nel corso Delle indagini Valutati E contestualizzati Sul presunto Illecito L'affidamento Di servizi E forniture Per la gestione E l'assistenza Tecnica Di progetti Finanziati Con fondi Europei Gestiti Dalla regione Abruzzo Secondo L'accusa Sorgi In concorso Con Flacco Avrebbe abilmente Sfruttato Il suo ruolo Apicale All'interno Della struttura Regionale Per favorire Il suo amico Imprenditore Cauti Titolare Della Metron Società Specializzata Nella gestione Procedurale E finanziaria Di programmi Europei Il quale Si è aggiudicato Cinque commesse Pubbliche Per centinaia Di migliaia Di euro Relative Alla redazione Alla gestione Di progetti Europei In materia Di sfruttamento Di risorse Energetiche E protezione Dell'ambiente All'esito Sempre secondo L'accusa Di procedure Di gare Turbate In suo favore In due casi La società Che si è formalmente Aggiudicata La gara È stata la fira Ma le attività Secondo L'ipotesi Accusatoria Sarebbero state In concreto Gestite sempre Dalla metrono Sulla base Di pregressi Accordi Occulti Con Micucci Stiamo sempre Su questo argomento Gli altri titoli Di messaggero E città Scacqua La cupola Dei progetti Europei Associazione Delinquere Turbata Libertà Dell'Incanti Chiusa L'inchiesta Bis Sul dirigente Regionale Antonio Sorgi Cinque Incarichi Pilotati Alla terramana Metron Dell'amico Imprenditore Ercole Cauti Un giro Di oltre Un milione Di euro Scambio Di ruoli Le corsie Preferenziali Per favorire L'azienda Nella corsa I finanziamenti Per energie E ambiente Così Il messaggero Andiamo a vedere Anche la città Come titola Su questo Argomento L'inchiesta Fira A favore All'azienda Di Mosciano Sono quattro Gli indagati Presunti affidamenti Illeciti Dei bandi europei Nei guai Due dirigenti Regionali Il presidente Di Fira E il titolare Della metron Le ipotesi Sorge In concorso Con Flacco Avrebbe Sfruttato Il suo ruolo Apicale All'interno Della struttura Regionale Per favorire L'amico Imprenditore Cauti L'inchiesta Si tratta Di un filone Scaturito Da un'altra Indagine Sul bando Di gara Per il cimitero Di Francaville L'abbiamo sentito Nel servizio Andiamo avanti Con le notizie Regionali Torniamo Sul quotidiano Il messaggero Ma adesso Parliamo di sanità Sulla pagina Abruzzo Più parti naturali Interventi al femore Al massimo In 48 ore Il piano Della regione Dopo il monitoraggio Dei risultati Bene l'aumento Di 20 punti Dei livelli Essenziali Lea L'eccessivo numero Di cesaree Le lunghe attese Per l'operazione Ortopediche Erano le principali Criticità E poi Altra notizia Niente tasse Per gli studenti Del cratere L'Aquila e Teramo Trasporti meno cari Attuate le misure Governo regione Riguardano le università I collegamenti Con gli autobus Andiamo ancora avanti Con la lettura Dei giornali E adesso Torniamo Invece Sul Sul quotidiano Il centro Andiamo ad aprire La pagina Di Pescara L'ultima Fermata Emergenza Stazione Una bomba Sociale L'apertura Appunto Della pagina Di Pescara Residenti Viaggiatori Denunciano L'abbandono Della zona Gli anziani Non ci sono Bagni Tutti fanno I bisogni All'aria aperta E c'è chi Fa Addirittura Sesso Tra Corso Vittorio E Via Piave Droga Bar Chiuso Sette giorni Sequestro Di hashish Nel locale Frequentato Da persone Con precedenti Penali Il questore Emesso L'ordinanza Di sospensione Della licenza Dopo le indagini Dei carabinieri E una petizione Sul degrado Della zona Con 200 firme Notizia Invece Che Si attendeva Ma che In parte Già era nota Il trasferimento A Pesaro Tedeschini Si prepara All'addio Alla procura Di Pescara E dice In questa procura Sono stata Bene Andiamo Ancora avanti Sempre sulla pagina Di Pescara Un incubo Lungo due mesi Perseguita La ex Con 13.000 sms Viene arrestato Accicato Dalla gelosia L'uomo Minaccia La giovane Di diffondere Video e foto art Insieme Ma lei Lo denuncia Alla Polfer Andiamo Ancora avanti Le analisi Del mare Inquinamento In calo Cancellato Un divieto Richiesta L'autorizzazione Per riaprire Alla balnazione Fosso Vallelunga Con i batteri Di nuovo Oltre i limiti Invece In via Balilla E qui vedete Proprio le analisi Del mare Punto per punto Quelle rese note Appunto Dall'Arta L'accordo Tra Comune e Società Porta Nuova 2000 Via Misticoni Verrà completata Parto nei lavori Attesi Da 15 anni Per questa importante Arteria Di Porta Nuova E poi la promozione Della città Più turisti Con logo E pubblicità Questa è l'intenzione Dell'amministrazione Pescarese Ancora avanti L'inchiesta Sul magistrato Pescarese Assolto il giudice Papa Nessun ricatto Cade l'accusa Di concussione Verso il governatore Del Molise Frattura Per far ottenere 400 mila euro Ad una tv Locale E si tratta Di Telemolise Il centrodestra All'ex presidente Del Consiglio Resti Che Renzi Che era parte civile Rimuova Il presidente Della regione Paolo Di Laura Frattura Andiamo avanti Folla all'addio Dell'avvocato Tobiolo Aveva 63 anni Funerali a Dortona Appassionato di musica Aveva fondato Anche una band Andiamo Sulla manifestazione Invece Bici in città Restando sempre A Pescara Domani si va In bicicletta Strade bloccate Dalle 10 Torna Bici in città Che richiama ogni anno Migliaia di appassionati Delle due ruote Durante il tragitto Di vieti sulle riviere Nelle zone del centro E di Porta Nuova Vediamo insieme Il servizio Su questa manifestazione Assessore Diodati Dopo il Vivi in città Pescara Si appresta Ad ospitare In Piazza della Rinascita Ma sulle strade Sia del centro Che di Porta Nuova Il Bici in città Del 2017 Un altro grande appuntamento È un appuntamento importante Oramai siamo alla 31esima edizione Noi siamo Come amministrazione comunale Assolutamente contenti Di svolgere questo tipo di attività Perché è un'attività Sportiva È un'attività In qualche misura Anche di natura sanitaria Per cui ci aspettiamo Una grande partecipazione Da parte dei cittadini Sperando che sia una bella giornata Sperando che voglio dire Si creino le condizioni Perché la città Venga attraversata In maniera tranquilla E silenziosa Dai ciclisti Durante questo giorno Insomma Io mi auguro Che ci sia veramente Una grande partecipazione E ringrazio anche Insomma Chi organizza Su Piazza Salotto Quella giornata Anche manifestazioni Di carattere ludico Sportivo Che sono importanti Anche per favorire L'avvicinamento All'attività sportiva Da parte dei giovani E dei ragazzi Anche quest'anno Le scuole saranno Protagoniste Alla Bici in città Avete partecipato A questa iniziativa Con grande entusiasmo Ancora una volta Alla 31esima edizione Saremo presenti E ringraziamo Di questa iniziativa Sì la WISP Il Comune di Pescara La FIDAS A nome di tutte le scuole Della città di Pescara Scuola, sport, divertimento E questo Diciamo anche Lo spirito Di questa iniziativa Sì e non solo Perché con i nostri ragazzi Abbiamo riscoperto Anche il valore Di testimonianza Per quella che è La cittadinanza attiva Il rispettare Le regole Il saper vivere In modo sano E sostenibile Sempre dalle cronache Di Pescara Ma questa volta Sul messaggero Spalletti L'architetto Della bellezza semplice Toccante Lectio magistralis Dell'artista Sogno Le mie dolci colline Che declinano Verso il mare Il presidente Fusero Premiamo un'icona Una persona importante Per tutti noi Ieri Alla d'annunzio La cerimonia Per il conferimento Della laurea Onoris Ad onorem In architettura A Ettore Spalletti Andiamo ancora avanti Sempre con i nostri Quotidiani Regionali Andiamo La pagina successiva Sempre dalle cronache Di Pescara Sul messaggero Rigopiano Mossa dei vigili Del fuoco Ascoltate anche noi Sui soccorsi Il sindacato Conapo Scrive alla procura Possiamo contribuire All'accertamento Della verità Con coloro Che si sono regati Sul posto E hanno materialmente Operato I soccorsi Andiamo Sul Anzi Torniamo sul Quotidiano Il centro Adesso Andiamo ad aprire La pagina Di Montesilvano Anzi no La pagina di Francaville Dell'area metropolitana Risorgi Sirena SOS Ad Alfonso Salva il palazzo storico Il comitato cittadino Chiede l'intercessione Del governatore Per evitare Il progetto Di demolizione In animo Dell'amministrazione Comunale A Cepagatti Invece Si chiude Un'attesa Lunga 13 anni Il nuovo distretto Sanitario Sarà operativo Da lunedì Andiamo Adesso Sulla pagina Di Montesilvano Pala di Martin Grande successo Organizzativo Trofeo di scacchi Scuola Record mondiale Di presenze In città 1616 Atleti E poi Il confronto In alto mare Stella Maris Enti ancora Divisi Colonia Accademia O Casino Per la struttura Sul lungomare Di Montesilvano Andiamo ancora avanti La pagina Di Pene Popoli Dell'Alta Val Pescara Con le corvine In angoscia Commerciante Esce di casa E sparisce Donatina Di Marco Berardino 60 anni Giovedì mattina Ha preso l'auto Per andare a Montesilvano Non è mai Arrivata Però C'è grande Preoccupazione Incidente Pagina Giancola Con me Ci sono i giovani Scafa Il sindaco Scente Si ricandita E presenta La sua lista Per l'11 Di giugno Andiamo avanti Ancora sempre Sul quotidiano Il centro Andiamo ad aprire La pagina Di Chieti La foto Prima della tragedia Silvia Giuseppe Ignari Dell'Pericolo L'immagine scattata Dalla sorella Della donna Mostra la coppia Di scerni Con i bimbi Sulle rive Del fiume Familiari In procura Per questo Dramma Che si è Che si è Consumato Sulle rive Del fiume Orta Come potete vedere Dalla fotografia Andiamo ad aprire Adesso Il messaggero Per Le pagine Di Chieti E l'Aquila Andiamo a vedere L'apertura Della pagina Di Chieti ZTL Arrivano le telecamere Scatta il piano Antifurbetti Presentato il regolamento Per il centro La giugno Pugno di ferro Per i trasgressori Già possibile Richiedere i permessi Ecco dove saranno Gli occhi Elettronici Andiamo a vedere Il servizio Su questo argomento Novità per le ZTL Nel comune di Chieti Questa mattina Sono state rese note In dettaglio Tutte le specifiche Per ottenere permessi Con tutte le diverse Categorie introdotte Orari di accesso Aperti anche ai non autorizzati E l'introduzione Delle telecamere Che accerteranno Infrazioni Annunciando già Toleranza zero Attualmente Ne entreranno in vigore Con il sistema Di rilevazione automatica Ne entreranno in vigore 4 su 6 Nei prossimi mesi Poi adegueremo Attiveremo anche le altre Ma non è che se non c'è La telecamera ZTL non è attiva La ZTL funziona Esiste dal 1989 E va rispettata Come tale Per cui Oggi ci sarà un occhio Che ne rileva Chiaramente Con più attenzione L'inatempienza O Diciamo Il mancato rispetto Delle regole Da parte di cittadini O di altri soggetti E ci sarà anche La possibilità Appunto Di un rilevamento Continuo Degli accessi Quindi degli ingressi Alle ZTL Con le telecamere Quello che tiene a specificare Polizia Municipale Comune di Chieti È la possibilità Di ottenere permessi Per numerose categorie Prima non inserite nel piano Si potranno ottenere Permessi a orario Anche solo per un giorno E si potrà ricorrere Ad eventuali sanatorie Fino a 72 ore dopo L'ingresso non autorizzato Con il nuovo regolamento Che non è stato ancora pubblicato Per cui a breve verrà pubblicato E diventerà esecutivo A tutti gli effetti Prevede un accesso libero Quindi per tutti quanti Dalle 6 alle 8 la mattina E dalle 16 alle 18 Sempre per tutti quanti Gli altri orari invece Sono previsti Solo ed esclusivamente Per quelli che possono essere autorizzati Noi per i veicoli Che non sono ad impatto ambientale Quindi eco 5 e 4 Indicato proprio specificatamente Sul regolamento Hanno degli orari Che dalle 6 alle 8 Per il carico e scarico Gli altri invece Quelli eco ambientali Naturalmente Hanno invece la possibilità Di accedervi In qualunque momento La pagina di Lanciano Vastortona Commercio e turismo Binomio vincente Il piano di Mirko Spinelli Nuovo presidente di Confesercenti Per rilanciare le attività Del centro urbano Ristabilire il decoro Mi farò portavoce Per tutelare gli interessi Degli operatori Da valorizzare il grande richiamo Del miracolo eucaristico A Lanciano Andiamo adesso Sulla pagina dell'Aquila Restando sempre al quotidiano Il messaggero Pelini Le dimissioni Sono un caso Cialente Le respinge Continuità Il sindaco stoppa L'addio dell'assessore Che aveva deciso Di lasciare rifondazione Ancora in stand by L'ingresso di Fabiani La coalizione darà Un risponso a giorni L'Iris di Forza Italia Attacca duramente D'Alfonso e di Benedetto La City di Pescara Non si deve fare Nel taglio basso Edimo il resame Annulla I divieti inflitti Ai Taddei E poi droga al terminal Due le denunce In questa operazione Di polizia Sorpresi A cedere sostanze A ragazzi Molto giovani Andiamo avanti Grandi rischi Il governo batte cassa Abbiamo visto Anche in precedenza Il risarcimento Ai parenti delle vittime Non è dovuto La presidenza del consiglio Chiede indietro Le provvisionali Per i familiari Si profila Un'altra dolorosa Battaglia legale La citazione giudizio Fissata Per la fine del mese Di luglio Di luglio Scuole L'indice di vulnerabilità È 0,6 Questo il risponso Delle analisi Dei tecnici Nel capoluogo Andiamo sulla pagina Di Avezzano Sulmona Comunali E guerra Per le candidature Iacone Di Cecco Ex stati Si schierano Con il sindaco Uscente di Pangrazio E l'altro Con lo sfidante De Angelis Ecco Tutti i nomi in campo Per il Movimento 5 Stelle A sostegno Dell'aspirante Primo cittadino Francesco Eligi Nel taglio basso Casa Italia Sulmona Primo cantiere Nel 2018 Per quanto riguarda La prevenzione Sismica Ieri c'è stata La conferenza Di presentazione Di questi Interventi Sulmona È tra le prime Dieci città italiane Ad entrare In questo progetto Denominato Casa Italia Poi il premio Caniglia A rischio L'edizione numero 34 Sempre da Sulmona E ancora Anziana Non cade Nella truffa Del pacco Notizia Che arriva Da Carsoli Andiamo adesso A vedere Le cronache Terramane Con Con Le pagine interne Della città E dunque Andiamo a Riaprire Il giornale Che abbiamo Già visto In precedenza E ripartiamo Dalla pagina Abruzzo DMC Terramane Unite per gli eventi Estivi Presentati ieri mattina Alla Camera di Commercio Di Teramo Eventi progetti Finanziati nell'ambito Dell'Open Day Summer Le iniziative Per l'estate Si tratta di Eventi di spessore Culturale Di forte richiamo Turistico E di promozione Del territorio Che coniugano Sport, musica Tradizione Folclore E anche L'eno Gastronomia Andiamo Andiamo ancora avanti Possiamo Aprire Invece La pagina Che riguarda La politica Terramana Brucchi Quasi pronto A ritirare Le dimissioni Secondo il quotidiano La città Possibile Ritorno Ad una maggioranza A 17 Con Falasca E Caccioni Sbraccia Invece Dato Per Irrecuperabile Questa L'ipotesi Della nuova Giunta 6 Franco Fracassa Katia Provisiero Doddi Sabatino Valeria Misticoni Mirella Marchese E Roberto Canzio Questa potrebbe essere La quadra Trovata dal Sindaco Maurizio Brucchi Per continuare E portare a termine La Legislatura L'incontro L'incontro L'ipogeo Di Dalmazio Mette in guardia L'approvvisiero Sul Giugno Terramano Il presidente Della Corale Verdi Senza fondi Impossibile Programmare Iniziative Dello stesso Livello Andiamo Ancora avanti Nunes Per ora Resta la vicepresidenza Sempre per quanto riguarda La politica Destini incrociati Tra comune e provincia Se Brucchi Resta in sella La segreteria Del PD Conterà di più In via Milli Andiamo Ancora avanti Con le pagine Interne Della Città Un project Da 10 milioni Per la stazione Società napoletana Assistita da ex Amministratori di Centrodestra Presenta il progetto Di riqualificazione Al comune Per l'area Della Stazione Di Teramo Continuiamo Sempre sul Quotidiano La città Andiamo A vedere Qualche Altra notizia Dalla provincia Sulla pagina Di Roseto Pineto A Tresilvi Di Girolamo Salva Il Lido La Lucciola Dopo un incontro In regione Scongiurata La chiusura Dello Stabilimento Rosetano E poi L'incontro Con gli studenti Don Aniello Manganiello Ospite Del Saffo Ieri mattina A Roseto Il famoso Prete Anti Mafia E Anti Camorra Andiamo Adesso Ad aprire Le pagine Invece Dello Sport Dunque Ritorniamo Sul Quotidiano Il Centro Per andare A vedere L'apertura Dell'Abruzzo Sport Ruamischel In Abruzzo Platini Visita Guilmi Alla Festa Di San Nicola L'ex Presidente Del UEFA Ospite Dell'amico Nicola Tracchi All'arrivo Dei giornalisti E delle Telecamere Indispone Il Francese Che anticipa Che anticipa La partenza Dal paesino Della Val Sinello Andiamo Ancora Avanti Con il Dietrofront Della FIGC Per quanto riguarda La Serie A E la squalifica Di Montari L'appello Cancella La squalifica Al centrocampista Del Pescara Prima la lettera Del console ganese Al presidente Tavecchio Poi il ricorso Firmato dal giocatore Così vince Il buonsenso E domani Gilardino Verso la panchina Con il Crotone Per questo penultimo Atto Del campionato Per quanto riguarda Le partite casalinghe Del Pescara Nel taglio basso Crescenzi Tra delusione Mercato Il Tezzino A Cagliari Pensavo di giocare Ma non è un problema Vorrei rimanere In riva All'Adriatico Verso il mondiale Intanto Vittorini Convocato Dall'Under 20 Andiamo a vedere Anche l'apertura Della Bruzzo Sport Del quotidiano Il messaggero Montari Squalifica annullata La corte sportiva D'appello Della Feder Calcio Ha azzerato Il provvedimento Nei confronti Del giocatore Del Pescara Sua difesa In campo L'ONU Per ribadire La lotta Al razzismo Il presidente Tavecchio Sono soddisfatto Di questa decisione Il patron Sul caso Ci voleva Soltanto Buonsenso Così Il presidente Daniele Sebastiani Sulla vicenda Sulla vicenda Sulla vicenda Montari Nel taglio basso L'eroa Platini Gustale Specialità Abruzzesi L'ex presidente Della FIFA Ed ex Stella Della Juventus Forse è stato Ospite a Casalbordino Del suo amico Nicola Tracchia Per la festa Restiamo sempre Alla Lega Pro Andiamo a vedere Adesso L'apertura Della città Sulla Lega Pro E quindi Sul Teramo Ultimo treno Teramo Vincere prima E poi Pregare I biancorossi Non hanno alternative Devono violare Il campo di Salò Rientra Spighi In ballottaggio Con Fratangelo Ultima di campionato Domani scena Il 38esimo turno Che chiude La stagione regolare Per il diavolo Poche possibilità Di salvezza diretta A meno Di un favore Del Sud Tirol Impegnato A Mantova Attacco Con defezioni Rimangono a casa Petrella Infortunato E tempesti Con la febbre Il vero problema Però E fare Gol Continuiamo Con lo sport Ritorniamo Sul centro Per andare a vedere La serie D Le Abruzzesi Al rush finale E tempo Di verdetti Il San Nicolò Chiede aiuto Al Pineto Nella corsa Al secondo posto In promozione Spoltore pronto Alla festa E qui troverete Sul giornale Tutta la 34esima Giornata Di serie D Andiamo al basket Di A2 Gara 3 Degli spareggi Amoroso Trascina Roseto Al successo Qualificazione Vicina Gli Sharks In vantaggio 2-1 Nella serie Conto Legnano Domani La possibilità Di chiudere i conti Al pala Maggetti La partita è finita 65-63 Invece Notte fonda Per la Proger Reggio Calabria Vince E vede la salvezza Tietini sconfitti Dalla Viola Nel terzo atto Dei play out Per evitare il secondo turno Le furie Devono strappare Gara 4 Partita finita 91-74 Per Reggio Calabria Andiamo a vedere anche il dopo partita Il coach di Paolo Antonio Recuperare le forze La direzione di gara Non mi è piaciuta E poi Bartocci si sfoga Mai stati in partita L'allenatore Furibondo La squadra Ha bisogno Di una sterzata Noi ci possiamo Fermare qui Con la rassegna stampa Mattino 6 Torna lunedì Alle ore 7 La nostra informazione Invece alle 14 Alle 19 E alle 23 Con il TG6 Grazie Per essere stati con noi Anche questa mattina Vi auguro Un buon proseguimento Di giornata E soprattutto Buon fine settimana Buon fine settimana Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti